Musica, aneddoti e storie di Pugilato. Tutto in una notte era il titolo della serata celebrativa e musicale andata in scena nella notte di Ferragosto a Gubbio, nel Chiostro di San Pietro. Grande protagonista è il Pugilo Gubbino Gian Mario Grassellini, per anni ai vertici internazionali BF, nella categoria Welter, di cui è stato campione del Mediterraneo ed Europeo, sotto la guida sapiente di Patrizio Oliva e Biagio Zurlo, due guri del Pugilato Azzurro. Ed è stato proprio Grassellini a salire sul palco per ricevere il premio alla carriera conferito dall'amministrazione comunale, presente l'assessore allo sport Gabriele Damiani, una cerimonia che ha visto la consegna di una ceramica speciale realizzata da Patrizio Pauselli, raffigurante la figura di Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, ma da tempo eletto anche come protettore dei pugili. Nel corso della serata non è mancata anche la proiezione di immagini suggestive delle più belle vittorie di Grassellini sul ring e dell'intervista a Grassellini, il pugile e il patrono di Federica Grandis. Quindi, nell'originale format della serata di intrattenimento non solo sportivo, lo spettacolo teatrale di Riccardo Tordoni sul ring sai chi ti mena nella vita, no? Con lo stesso Tordoni, voce narrante, le musiche di Michele Fondacci. A fare da corollario alla serata anche la musica e la voce di Johnny Grasso Big Band, con il leader Giampaolo Grassellini, fratello gemello di Gian Mario, a fare da mattatore. A lui e alla sua famiglia sono andati grazie ai più sentiti del pugile eugubino, che ha raccontato anche come è nata la sua passione per la box e come vorrebbe che la box diventasse uno sport di riferimento per tanti eugubini ed umbri. Un auspicio tanto più significativo dopo un'edizione di giochi olimpici che invece non ha riservato molte soddisfazioni.